Ciao ragazzi, allora io sono, pensate un po', nella sala che era l'ospedale dei Cavalieri Templari a Malta guardate un po', non mi prende il tiro e sono a fare il Cavaliere Templare per la confidenza stampa di Radio Italia Live in collaborazione con il Mediterranean Festival che si terrà il 4 di ottobre e quindi festeggio il mio compleanno qui da Malta ma in realtà sono vicino a voi e sento tutto il vostro affetto, il vostro calore grazie di cuore di tutti gli auguri che mi state mandando vi voglio bene e vi dico semplicemente questa cosa a breve, a breve, a breve, a breve, novità ciao happy birthday, Francesco happy birthday to you happy birthday to you